... per tutte le sardine toscane, la Toscana oggi è calvente, dice a tutta la sua politica, dice a tutta l'Italia che la Toscana non piega. Aplausos Noi siamo di Cascina e quindi la conosciamo da vicino, molto più da vicino che voi fiorentini. E allora siamo scesi in piazza, scenderemo in tutte le piazze, a Pisa, a Cascina, da tutte le parti per farci sentire un po', perlomeno per rialzare il tono della politica e la qualità, le vallevolgarità, le cattiverie, l'odio, per quello siamo scesi. Andiamo in piazza perché i principi di questi ragazzi ci sembrano quelli che vanno contro l'ottusità, la chiusura mentale, la violenza verbale che non faciliterà certo un mondo, una società migliore. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie.